E sono molto curioso di vedere il nostro appartamento Ho detto poco fa che non devo pagare l'affitto Sbagliato Prima di andare al nostro appartamento Eccolo qua, acceleratore Guarda quanti danni Riduce il vapore nel labbro di trasmissione così velocemente che l'urgone si vaporizza istantaneamente Usa E per attivarlo durante la guida Sono un sacco di soldi Ma mettiamolo Qui la guida Avere un po' di velocità potrebbe aiutarmi E basta subito per girare Quindi direi di non usarlo adesso Anche se sarebbe stato carino sperimentare Posso scendere un po' di più Posso salire un po' di più Una delle due signori E questo lo dobbiamo al mio parcheggio Neodotomburi Che per qualche motivo l'ho scoperto anche se qui ci vivo Ma Dettagli Allora Qui Non so bene cosa ci sia ma È il nostro quartiere Quindi Vabbè L'ho location e neanche ci andiamo più È interessante che ci siano queste bacheche Uh abbiamo proprio una Palazzone della Corpsec qui a fianco Oh cioccolata calda È istantaneamente consumato Non lo teniamo in inventario Però Con questa pioggia Il freddo Il vento Una cioccolata calda Ma Quindi ci potrebbero essere altre occasioni con cui io Richiede volantino Corp Richiede il volantino Corp Ok Anche i libri devo tenere Ah 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 Eh ok 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 Eh mi pare giusto Non so perché Senti solo col volantino Non c'era scritto Purtro che Tipo con questo volantino potrei avere accesso a questo edificio No eh Too easy Too easy Va bene Andiamo prima a vedere Magari trovo un volantino qua in giro Questo è più un cartone della pizza sembra ma Libro rovinato Ah lo posso rivendere? Ma lo Una copia molto logora di una vecchia edizione tascabile C'è un uomo senza maglietta sulla copertina Strano Ora perché io lo vedo Là con il prezzo Non installato nel mio mezzo O basta che io Lo abbia nell'inventario Per poterlo usare Questa cosa non mi è perfettamente chiara E ne abbiamo due C'era qualcuno che ne aveva una scorta E ha deciso di finirsene qui a liberare Ma spargendoli un po' in giro Ora non credo che il cameriere ci serva a nulla ma Mi conoscete Here's what I can offer you today Ramen d'agnello al cocco Allora Mi sembra molto un misto fra Più culture E' un vero piatto fusion Ma comunque molto interessante Cioè lo proverei Lo proverei assolutamente 3D print your subconscious 3D print your subconscious Ehm Ok Davvero adesso ho il dubbio troce di cosa si potrebbe usare e cosa no E a di là tutta avevo letto che i dev Avevano reso Noto cosa fosse tanto da vendere e cosa no Con un raggiornamento recente Cosa che non mi pare in realtà O forse non ho ancora trovato qualcosa che sia solo loot Questa è la verità Borsetta Firmata No 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 Non vendo niente No non vendo niente Terribile Odio non avere accesso a quell'area Ehi memoria breve Perché con me? Perché con me? Tu stai a pezzi eh Mi hanno cambiato un impianto No no non sta bene E infatti Mi sono appena trasferita Mi spiace Perché tutti vogliono soldi Perché tutti vogliono soldi No non per te Cosa credo che posso fare per te C'è una carta L'ha postata in tua mail Credo che sia per me E' solo una carta? Sì Per me Ho bisogno È come Come Inizio di tornare a tornare A me Ok La scala perforata di Evelyn Nel tuo appartamento Ok Qui Inizio ad avere un po' di mistero Quindi Uh Che estetica Lego Particolare Ci senti più largo eh Ma guarda che non è brutto Come appartamento Oh mio Dio 50 Oh mio Dio Oh una squadra di disinfestazione L'ho sbloccato la lampada Quindi abbiamo abbonamento alla pizza Ricevi un So I just go to the door And Not gonna lie to you kid This one is gonna be tricky But I think you can do it The club's picky about who gets in Have you heard of Lomo? No He's the owner of the club And most of this sector too He's got a piece of every business in the Undertown And he didn't get him by asking nicely Be careful about him I will Are they expecting me? Sure I'm just letting you know You might come up against some resistance These are powerful people So watch what you say Powerful people? Let's just say they're very private clients Who have reason to suspect any strangers might be undercover Korpsek You will have to convince them otherwise Qui feromoni potrebbero servire And 14 FC? Yeah This has been a tough night for the company We're understaffed and overworked and we keep losing contact with drivers There's something in the air tonight Be careful If you do a good job on this delivery All the past infractions are forgiven Understood Okay Quindi l'aver non consegnato la bomba e averla buttata Che ci hanno detto già che quello era tipo due strike al prezzo di uno al terzo siamo a casa Ci verrebbe perdonata Questo è un letto che sembra davvero scomodo Ventilatore che ovviamente gira Miglioramenti per la casa aspettiamo ovviamente C'era anche una retro console molto interessante ma Davvero la priorità comunque dovrebbe essere Quanto è Blade Runner questa scena La scena in cui si esce sul balcone Parlo non del film ma del videogame signori Ah che ricordi E quelle maaa Sta avendo voglia di rigiocare al gioco di Blade Runner Ormai è antico ma Comunque Comunque Direi che la scena l'abbiamo presa Possiamo uscire Evelyn Non so cosa possa servirti ma eccola Ho trovato la scena l'abbiamo Prendi la scena l'abbiamo Prendi la scena l'abbiamo Grazie Oh mio dio Io ne ho trovate tante Ah Lei era L'esplosione L'esplosione Non c'era la scena l'abbiamo Non c'era la scena l'abbiamo Ma grazie Non c'era la scena l'abbiamo Sarò la prima Ok non ti piace Ok non ti piace Ok Non c'era la scena l'abbiamo Ne ho un tot ma 10 di 20 Ok questo ci dà Chiaramente motivo Di cercare più in giro E magari di fermarci Anche in luoghi dove non dovremmo Anche se Probabilmente non servirà Probabilmente basterà continuare a fare le consegne Mano a mano Andare dove serve Allora Se volessi sapere questo Che quartiere è però Non lo sappiamo Immagino che sia sempre Little China No Questa è Little China Come Come mega aria Non so Come si chiami Qui si va verso Avalon Heights Ociuba Gallows Row Distretto Mochi Albena Majorus Majorus Che serve bello sapere dove viva Però ok Dobbiamo tornare Qui Va bene Non penso Controlloci i contatti ancora Nell'immediato Però forse Camus ha qualcosa da dire Questi androidi Chissà Sono andato lungo Noi possiamo brutalmente tagliare Ormai ho scoperto Non abbiamo la velocità Nelle strade Ma È comunque comodo tagliare E premo E Ok Ho lo sprint Sfruttiamo lo sprint Cioè lo sfruttiamo Le state di per sé Sono molto veloce E in più possiamo andare Molto Più veloce Wow In effetti è molto veloce Questo Alt Shit Mamma mia Ho premuto E Nel momento sbagliato Cloudpunk It's us E sono riuscito A non prendere Aspetta che Ecco Ci stava in modo di Fare un roll Ok Capo Preso il pacco Consumerà più benzina Per fare lo sprint Spero proprio di no Cosa Che sembra un corpore Sec Camis Io credo Possessi come noi Dobbiamo acti naturalmente Non sospicare Esattamente È difficile Non sospicare Quando sei preoccupato di essere uccitato Do you know Cosa altrimenti Non aiuta Parlare troppo Tu apprende Prima Camis Ok Dobbiamo scendere qua Verso Gallows Road E Evelyn Prima o poi Troveremo queste schede Perforate Peccato che Avremo costantemente In alto a destra Questo reminder Proprio Imperituro Guarda quel Me lo ripaghi Quel danno Ok Uno Due Tre Alla Quarta a destra Ok Alziamoci noi Non facciamo altre botte Quindi questo era uno No No I soldi I soldi che se ne vanno Non sfruttiamo Lo speed La Due Non ripariamoci adesso In mezzo Ancora non serve Almeno qui Non ci Non ci menano Abbassiamoci Qui Dovremmo girare È pacifico Stare fuori Dalle Strade Ora devo capire Dove Andarmi a Incastrare Per il Parcheggio Stiamo Stiamo proprio Qui Forse un Un'occhiatina Ai costi di riparazione È bene Darli Ho preso un sacco Di mazzate Garage Di Lucille L'antenna Retro Mi costa Un pizzico Troppo Piuttosto a questo punto Mi prendevo Delle decorazioni Per casa Povera casa Saliamo Beh lì abbiamo Questo è già un parcheggio Per noi mi sa Stupendo Allora Orchard Drive Ah questo Non ci porta Dove dobbiamo andare A questo punto Mi farò un giretto Eccolo qua Appunto Un'altra Scada perforata Ah vedete che Comunque direttamente Dice 11 di 20 Cioè finchè Non ne abbiamo ottenute Tutte 20 La questione Rimane Questi valevano Un sacco Di soldi Ora se trovassimo Di nuovo Un volantino Della Delle corporazioni Guarda quanto Diavolo Tipo qua Ne vendo Una Io i soldi Li voglio Tante cose Che costano Soldi Quindi Teniamoci Uno di tutto Proviamo Questo approccio Proviamo Anche perché Senza cash Senza cash Non possiamo Spendere soldi In modo Totalmente Commerciale E andare a comprare Vestiti E decorazioni Per casa Oh è uno di loro Grande Ma Posso pensare che siete android A questo punto Visto che avete la stessa Oh guarda Qui cosa costano anche di meno Non ho fame In realtà ho già mangiato parecchio stasera Un'altra scheda? No Un altro delibri che ho appena venduto Ok Credo qui sia tutto Possiamo spostarci di quel poco allora Comunque Non è stato un viaggio a vuoto Ora sappiamo che Queste scheda perforate Sono importanti Io spero ce ne siano molte più di 20 in giro Voglio sperare che non debba essere una cosa certosina Ma tecnicamente Tutto può essere Assaliamo un po' di più In modo da Tagliare qua un Velo più velocemente Il parcheggio di lei sulla destra Sì Uh Qui ce n'è di roba eh Qui ce n'è di robetta Con calma Eh stiamo diventando un po' più abili Wow Lì corrono eh Ok adesso questi venditori Negozianti Quando non hanno nome Direi che possiamo anche smettere di interagirci Almeno che non ci serva davvero qualcosa Eccone un'altra Ok non debba vendere davvero qualcosa Beni e servizi Nightclub sim wave Allora Non so se i feromoni ci serviranno Questo è nuovo Ocarina Noi siamo È un'ocarina Mia mamma ne suonava una simile Quando ero piccola Immagino che qualcuno l'abbia persa È sporca ma credo che funzioni ancora Noi eravamo Una performer Noi suonavamo Interessante avere uno strumento adesso Ma sei uno spacciatore Senza l'icona del Epidermide Derme Autoreplicante Autosomministrante Cellule epitriali per androidi Sono costose Molto ricercate Da quello che vogliono passare Per umani Ok Thanks Oh Noi siamo Non credo che noi siamo androidi Tornando a parlare del Il gioco di Blade Runner Lì addirittura c'era un seed casuale Per cui tu potevi essere un androide O no All'inizio del gioco E lo dovevi scoprire E rigiocare Resettava le chance C'erano 14 finali Se non ricordo male Ok E c'era lo spacciatore là dietro Certo E secondo te Uno del corpse Per fare un'entrata così Non l'avrebbe Non avrebbe avuto Il consenso Uh questo pure è nuovo Figurina E' una figurina Wow Serie oro Deve essere piuttosto rara Chissà se a Joe E' piaciuta la foto che hanno usato Probabilmente è di qualche anno fa A Joe Ha un aspetto molto più giovane Ehm Sì no Noi siamo sicuri che possiamo Comprarci Dallo spacciatore Proprio là davanti E ok Qui Si avrà accesso solamente Dopo Uh possiamo andare là dietro Però prima Comunque è bene esplorare Nel remoto caso Ci sia qualcosa per noi Tipo Questa sbobba strana Ah ma non possiamo passare di qua Ah ma non ci serviva Passare di là Sciocco io Dovevamo andare qua Dovevamo andare qua Probabilmente niente Ma anche fosse una Una scheda perforata Sarei comunque contento Circuiti Componenti elettrici Pardon Soldi Comunque convertibili in soldi Nel caso Che ora ne voglio tanti Cioè ora è davvero Sarei contento di avere tanti soldi Ok Affermazione È un po' banale Ah sì Sarei contento di avere tanti soldi Per spenderli eh Non per fare poverone poveroni Narco Big narco in effetti Allora Juice Vediamo Vediamo se No dice solo che è evidente Ok Va bene Va bene 80 lin Speriamo che ne valga la pena Il lavoro ci darà 150 Quindi Un investimento un po' a me E' interessante che si chiami Juice Perché In realtà In inglese Juice Suona molto simile a dire Il succo Ma in genere Si usa anche per Il buon alcol Ora Ora questa è Noi dobbiamo andare nell'area VIP Oh Synthwave Ovviamente Ovviamente Poi La musica di questa cosa È il Synthwave Quindi Ah le musiche di questo gioco Molto belle Lomo Eh Carmine ha fatto una brutta fine C'è un po' a me Immagino 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 Mmm Più o meno in realtà ma Ancora Cora Mi sta dicendo che Non sempre potrò fare la scelta buona E che a volte avrò due scelte Entrambe cattive O che semplicemente una delle due scelte Vorrà dire la mia morte O la morte di qualcun altro Interessante Guarda da dove diavolo si esce Mi pareva se uscisse da Qua Ero convinto Si uscisse da là Esatto Cora Mi sembra una divinità O un Sì, ho capito Ma deve venire da un'idea Faccio una scelta basica Tras l'open web e pub web Searching 872 definizioni differenti per Cora Ah, come il karma Ma quasi Ah sì? Ok, specialmente un qualcosa Cora pick up a drive converter from Emmett's garage your delivery target is never slow Joe control out Camus are you there? here Camus I want you to do a deep search for Cora not mainstream corp networks hit the deep net and the under net is it important? I don't know I see it everywhere and there was something about control's reaction it means something to him it's true oh my head I don't feel good you don't have a head chemist you're running on a low clock speed processor so that's why you're struggling take yourself offline while you do the search I'll be okay without you for a while you need to swim you remember how to do that? you need to copy yourself into the other networks and travel upstream I remember you're looking for Cora I want old data where did the name come from? that's your focus I will try going now Camus Automata now offline okay Automata generico buona nuotata amico mio I'll be able to take this convertitore di guida I'll be able to find out I'll be able to find out the locale maledizione to be able to viens I'll be able to find out forever oh 时 as